Riga vi ricordo che ci sono 10 account col Cavaliere Nero in corso perché c'è un contest in corso dove 10 di voi vinceranno 10 account col Cavaliere Nero totalmente gratis Per partecipare al contest basta essere iscritti, aver attivato la campanella e seguitemi su Instagram perché se non mi seguite non potete vincere Detto questo seguitemi tutti e vi lascio al video Ciao a tutti Riga iscrivetevi, attivate la campanella e soprattutto cliccate il link in descrizione e seguitemi su Instagram se volete partecipare al contest dove 10 persone di voi quindi 10 iscritte al canale potranno vincere un account col Cavaliere Nero Quindi ci sono 10 account col Cavaliere Nero in corso quindi 10 di voi potranno vincere il Cavaliere Nero Per partecipare basta essere iscritti, aver attivato la campanella e aver lasciato like a questo video e seguitemi su Instagram Se non mi seguite su Instagram non potete partecipare, link in descrizione di Instagram Detto questo riga vi lascio al video Eh si riga avete capito bene dopo tutte le collaborazioni che ha fatto Epic Games con quasi ormai tutto Con Samsung, con Xbox, con PlayStation 4, con Twitch, con Amazon, con Iconic Riga si è decisa e ha fatto la collaborazione finalmente l'ha aspettata da tutti con Apple Si riga non è una fake news, appunto anche Ninja sul suo profilo appunto di Twitter se non sbaglio Ha annunciato questa collaborazione appunto con Epic Games con appunto iPhone Riga veramente qualcosa di assurdo perché uscirà appunto una skin dedicata a tutti i possessori della TV nuova di Apple se non sbaglio Adesso riga non sono certo al 100% che sia di questa TV ma penso che tutti i possessori appunto di questa TV Riceveranno un premio dall'Epic Games Questo premio è appunto come vi ho detto questo bellissimo TV Vedete Ninja sul suo profilo di Twitter ha annunciato questo e anche TimeTanTan Adesso non so chi è questo, penso sia uno sviluppatore oppure un giocatore Non lo so bene riga perché non seguo molto youtuber americani, comunque stream americani Ninja lo conoscono tutti quindi lo conosco Però non conosco tutti, comunque riga veramente una bellissima notizia La dimostrazione di questa skin è stata proprio il 25 marzo dove lo sviluppatore appunto di iPhone Non so cos'è comunque uno che lavora in iPhone ha dimostrato questa skin in una fiera Quindi ha annunciato proprio la collaborazione con Epic Games ufficialmente in una fiera Penso a Los Angeles, non so se è Los Angeles comunque Penso che appunto a Los Angeles ha annunciato questa collaborazione con Apple Se non è Los Angeles comunque in America, non in Italia sicuramente E riga quindi per tutti quelli che possiederanno, possiederanno questa nuova TV Che non so bene appunto come vi ho detto se è una TV Comunque nel corso del video ho altre immagini da mostrarvi Che c'è scritto TV in questa immagine Adesso riga ve la faccio vedere, guardate Ecco riga vedete TV più è dell'Apple Quindi riga forse è una TV o forse no Non lo sappiamo per certezza, almeno io non lo so per certezza Però come vi ho detto questa skin potrebbe essere gratis per tutti quelli che possiedono appunto questa TV Se non sarà così magari per tutti quelli che possiedono un iPhone X Quindi se tu che hai l'iPhone X hai appunto l'iPhone X e l'iPhone 3 il telefono Potresti avere gratis questa skin Quindi questa skin sarà gratis per tutti quelli che magari possiedono un telefono Apple Ovviamente non è 100% così Ma noi speriamo che appunto sia così Perché se è così tutti quelli che hanno un iPhone Quindi sapete che a Milano hanno tutti l'iPhone no? Tutti quelli che di Milano praticamente hanno questa skin Quindi questa skin diciamo che è gratis Perché qualcuno che magari vostro zio, vostro cugino, vostro parente avrà sicuramente un iPhone Riga un vostro amico che non gioca a Fortnite avrà un iPhone Quindi possiamo dire che questa skin è totalmente gratis Eh sì adesso arriva quello nei commenti e mi dice Sì però devo possedere un iPhone Se no questa skin non è gratis Cosa dici che è gratis? Se devi avere un iPhone Ok hai ragione anche te Eh ma qualcuno in tutta la tua vita Avrai magari incontrato un anziano che ha un iPhone Lui non gioca a Fortnite Potrebbe darti a te la skin Ti scarichi Fortnite sul suo iPhone Accedi col tuo account Fatto questo tu hai la skin Quindi non dire Eh ma no ma devi pagarla Non è gratis Sikes fai schifo Buu buu No No Perché potresti avere anche tu questa skin gratis Detto questo ragazzi vi ho detto tutto quello che appunto è su questo pacchetto Arriveranno anche insieme 5.000 V-Bucks insieme a questo pacchetto Quindi veramente qualcosa di assurdo Se sono anche quelli gratis Ovviamente col pacchetto quindi 5.000 V-Bucks gratis Non li buttiamo mica Detto questo ragazzi voglio dirvi un'altra cosa che c'entra con l'ultimo video uscito Dopo Prima di questo no E' uscito un video su quella dove Ninja mi invia la richiesta Molti di voi mi hanno detto Non è il vero Ninja il nome è scritto male Ma raga lo so che non è il vero Ninja Però visto che questo qua C'è scritto Ninja nel nome no Magari dico che sarà forte Se arriviamo a 2.000 like sotto l'ultimo video Quindi andate tutti a mettere like sotto l'ultimo video Perché se arriviamo a 2.000 like Farò il provino a questo misterioso Ninja Che si spaccia per Ninja Che magari poi non è neanche forte Non lo so raga Però penso che vuole essere provinato Perché io su Instagram Ho detto che tutti quelli che appunto mi scrivono su Instagram Io li farò fare il provino Quindi se anche tu vuoi fare il provino Sei forte Vuoi fare il provino Scrivimi su Instagram Link in descrizione Io raga voglio fare il provino a questo Tra virgolette Ninja Magari è una bestia Magari un hub Lo scopriremo Solo se quel video arriva a 2.000 like Siamo a 1.300 Regà Andate a mettere tutti i like a quel video Perché dovremmo farlo arrivare a 2.000 like Io vi mostrerò appunto il provino Ancora non l'ho fatto Perché ancora non siamo arrivati a 2.000 like Ma appena arriviamo Vi prometto che registrerò subito il video Ve lo porterò il giorno dopo sul canale Quindi andate tutti a mettere like a quel video Regà Conto su di voi Tu che stai guardando questo video Seguimi su Instagram Link in descrizione E vai a mettere like a quel video Se lo fai Sei veramente un campione E potrai partecipare al contest Appunto del Cavaliere Nero Che si vincono Si vincono Si vincono 10 account Col Cavaliere Nero Quindi vai a seguirmi subito su Instagram Altrimenti sei solo un piccolo buffo Ok regà In questo video abbiamo parlato Di questo pacchetto Veramente molto figo Che arriverà su Fortnite Battle Royale Per tutti quelli che possiedono appunto Un dispositivo iPhone Oppure una TV iPhone Se voi regà sapete Precisamente come si otterrà Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Perché io non lo so al 100% Però so solo Che arriverà O magari con questa TV nuova O magari con tutti quelli Che possiedono appunto L'iPhone O magari arriverà Con l'iPhone A settembre Non penso perché è stato annunciato adesso Quindi penso che tra poco Potremo averla tutti quelli Che possiedono appunto l'iPhone Detto questo regà Io spero veramente Che questo video Mi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Ma soprattutto regà Iscrivetevi Attivate la campanella E seguitemi su Instagram Se volete partecipare al contesto Dove potete vincere Un account Sul Cavaliere Nero Perché ci sono 10 account Sul Cavaliere Nero in corso Quindi 10 di voi potremo vincere Seguitemi tutti su Instagram Perché sulle storie di Instagram Dirò i 10 vincitori Quando dirò i 10 vincitori Me lo chiedete in tantissimo Lo dirò ai 100.000 iscritti E lo dirò ai 20.000 follower su Instagram Quindi ai 100.000 iscritti Ai 20.000 follower Dirò i 10 vincitori Dite Eh ma ti mancano ancora 14.000 iscritti Ti mancano ancora 6.000 su Instagram Iscrivetevi tutti Attivate la campanella E seguitemi su Instagram Se volete appunto aumentare la velocità Quindi nel meno tempo possibile Avere questa skin Detto questo Regà Iscrivetevi Attivate la campanella Ma soprattutto Seguitemi su Instagram Perché se tu Che stai guardando questo video Non mi segui su Instagram E non sei iscritto Non puoi partecipare al contesto Quindi iscriviti adesso Attiva la campanella E seguimi su Instagram C'è il link in descrizione Mi chiamo Sykes Trettino basso Trettino basso TM Non ti costa nulla Poi magari vuoi anche fare il provino per il mio team Sei forte Vuoi fare il provino Scrivimi su Instagram Mi raccomando Io ti risponderò Magari Non subito Perché ho tantissime richieste Quindi Magari con un po' di tempo ti risponderò Tu non perdere la pazienza Perché ti risponderò Sicuramente prima o poi O magari Non ti risponderò Ma risponderò a un tuo amico Quindi Scrivimi su Instagram Se vuoi fare il provino E Boh Regà Detto questo Noi come sempre Ci becchiamo Ad un prossimo video Fate arrivare 2000 like Col video per il provino Così Lo vedete tutti Detto questo Regà Dai come sempre Ci becchiamo Indovinate un po' Indovinate un po' Indovinate un po' Aspettate aspettate Ad un prossimo video Che bella regà Le voglio bene Vaglio il bacio della famiglia Ci becchiamo Ad un prossimo video Ciao Ciao Ecstate No Grazie a tutti